Il progetto di Cuneo Il progetto di Attivazione dei Territori ho qui alla mia destra e alla mia sinistra Nemo, un nostro nuovo meraviglioso partner, in particolare alla mia destra Pietro Cigna che proprio da questo mese, da giugno, inizia una collaborazione con Italia che cambia per sviluppare la mappatura e la connessione sul territorio cuneese e più in generale la community piemontese e però diventa anche Tredunion proprio tra Italia che cambia e Nemo. Pietro. Grazie Daniel, sono anch'io molto contento di questa collaborazione che sta iniziando e che in qualche modo mi trovo un po' a fare da elegante tra le due realtà. Sono molto contento appunto perché questa collaborazione ci permetterà di andare ad esplorare in maniera un po' più approfondita quelle che sono le realtà di cambiamento attive nel cuneese, soprattutto per quanto riguarda i territori montani e le aree interne della nostra provincia e dare proprio anche visibilità a queste realtà. Allo stesso tempo questa esplorazione punta un po' a favorire la messa in rete di persone che si attivano per il cambiamento e le quali speriamo poi di riuscire anche a coinvolgere attraverso quelli che sono gli strumenti che come Nemo stiamo sviluppando sia sul cuneese ma non solo. Esatto, l'obiettivo è di lavorare insieme in generale sull'area interna e l'area montana e prima ascoltandoli ho appena finito di intervistarli, mi ha colpito in alcuni momenti, sembrava proprio di sentire descrivere un po' il nostro obiettivo, il nostro lavoro. Come Italia cambia diciamo sempre cooperare anziché competere è la base. Cosa dici Francesco? Sono assolutamente d'accordo, questa cosa ci aiuta sicuramente anche a ottimizzare le risorse, la fatica, ci sono tante cose da fare quindi il fatto di sapere che qualcuno le intende sia come obiettivi che come modalità a modo nostro è una cosa che ci dà coraggio e questa collaborazione ci piace molto. Inizia quindi un nuovo viaggio, continuate a seguirci e grazie. Ciao!